Erano destinati ai festeggiamenti di Capodanno i 13.000 fuochi d'artificio sequestrati dalla Guardia di Finanza Beinasco. Erano nascosti dietro crocchette per cani e insetticidi in un negozio per animali. Tre le persone denunciate che, spiegano le fiamme gialle, rischiano ora condanne superiori a un anno di reclusione. I tre sono accusati di avere omesso tutte le misure di sicurezza previste per lo stoccaggio dell'ingente quantitativo di fuochi d'artificio, tra cui i famosi Bengala e le fontane luminose in batteria che nei prossimi giorni verranno fatti brillare dagli artificieri. Sono in corso accertamenti sulla provenienza degli artifici pirotecnici, priva della marcatura europea di conformità e che richiedono un'idonea abilitazione per la vendita e la movimentazione.